Allora, due cose. Prima cosa, partita abbastanza da uffici inchieste, faccio il goletto, io l'aprirei. Seconda cosa, una vittoria che potrebbe non servire assolutamente a nulla e potrebbe essere un contentino clamorosamente inutile. Per quanto riguarda la prima cosa, beh, il gol di Zapata, uno Zapata lasciato totalmente da solo, e il gol di Ilic, un Ilic totalmente da solo, ma già quando gli ha fatto il cross, cioè già quando ha preso palla Bellanova, si vedeva che era da solo, ha continuato a rimanere totalmente da solo, ma da solo non nel senso che c'era il difensore staccato, proprio da solo, prateria, e con Rodriguez, stessa volta, sempre in colazione, sempre solissimo. Partita da fascicoletto, da uffici inchieste, ok. Poi Rodriguez ti spara quel golazzo che non c'entra nulla. Il rigore c'era per il Milan, 3-1, un Milan che poi evidentemente dice, forse è ok far vincere il Toro, ma non dobbiamo fare una figuraccia. Spinge di più, e boh, Ricci che si fa munire in maniera totalmente inutile, Ricci sei un coglionazzo, tipo una fantacalcia, è una munizione inutile, totalmente, totalmente inutile. Per quanto riguarda il fatto del contentino, io penso che stare a esultare come dei pazzi per questa vittoria fa parte, a mio avviso, modestissimo, di uno spirito perdente, perché, ragazzi, se noi non andiamo in conference, ovvero se non battiamo l'Atalanta, barra, non andiamo in conference quest'anno, e lo scopriremo fra poco, perché comunque manca solo più una partita, quindi non è un discorso, no, una cosa molto precisa, e a cui anche voi potete arrivare, perché tanto è lì, ma anche una settimana, quando ci chiamiamo sabato e domenica, non lo so, se alla fine non andiamo in conference, per qualsiasi motivo, questa partita di stasera, sulla quale chiaramente non è che sono da fare grosse critiche o sono da fare critiche negative, ma non sarà servita a nulla, cioè ne sono proprio a zerata, c'è questo che io voglio far capire, ok? Allora, se per contentino mi si intende il fatto di qualificarmi in conference, io mi accontento, chiediamo una cosa, perché sennò sembra quasi che, ah, Darren vuole vincere lo scudetto, sennò è tutto contentino, no? Se tu ogni tre anni mi dai il contentino di vincere una coppa, una conference, allora se tu ogni tre anni mi fai vincere alternando conference Coppa Italia, e conference Coppa Italia o anche solo ogni cinque anni sono contento. Quindi, per far capire questa cosa, io per contentino, chiariamo un po' il significato, dal punto di vista concettuale di questa cosa, cosa intendo io per contentino? Per contentino intendo un qualcosa che può essere una vittoria, l'acquisto di un giocatore, un bel gol, che ne so, l'acquisto di un allenatore forte, che però non ti porta a nulla, e per portare a qualcosa io intendo, o la qualificazione ad un qualcosa, ovvero la conference, in questo caso minimo, in cui ci si può qualificare, Europa League, Champions League, oppure la vittoria di una competizione, ok? Quindi, contentino un qualcosa che è sul momento ti fa gioire, ma in realtà non si capisce che è soltanto un passo che può potenzialmente, in potenziale, in potenza, come direbbe, fa vero, ma dico in realtà anch'io da tantissimo tempo, può essere utile. Quindi, eh, però tu non sei felice, stai snobbando, perché io in realtà facendo questo video so già le reazioni, eh, però guarda, non è contento neanche qui. Ragazzi, io sono contento per, cioè, quando si raggiunge un obiettivo, mi sono rotto il cazzo di illudermi, di fare festa, poi, allora, chiaro, quando ho fatto quello di toro, non sono contento, però, al dire di questo, perché se uno, cioè, se uno anche durante la prezza le veste così sempre, tu direbbe anche, la voglia di tifare, quello sì. Però, dato che, sono una persona che è stata troppo illusa nel corso delle mie vite da questo cazzo di toro, troppo illusa e le prese per il culo mi hanno rotto i coglioni, io dico, se, tanto manca poco, non è che manca un mese, tre mesi, no, tanto manca poco, lo scopriamo fra poco, se, fra la settimana il toro si qualifica in conference, io non sono neanche fra quelli come magari Nick che dicono, eh, ma tanto, chi se ne importa la conference, no, 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 e sto parlando addirittura anche solo della qualificazione in conference. Per me, già qualificarsi in conference è un obiettivo, ma ragazzi, questo lo dico da sempre. Tra l'altro, un toro che si qualificherebbe in conference, e io li esulterei, in maniera non eclatante, ma se, però, sarei contento, sì? Secondo me, senza volerlo, cioè, nel senso, non è un obiettivo, no, ma, 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 palese questo, si qualificherebbe in conference senza averlo avuto come obiettivo dall'inizio. Io potrei anche dire, sti cazzi, io firmerei ora per tutti gli anni, non avere obiettivi e ogni anno andare in conference. Quindi, cioè, parliamoci chiaro, a me frega un cazzo, io dico solo che, c'è una, una sliding doors, se, settimana prossima, finisce Donato Torino, che vinciamo, pareggiamo, perdiamo, ma comunque andiamo in conference, io, allora, sono contento, e non farò un video in cui, eh, però, no, 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 va bene, oh, e vai, sarò contento. Non voglio farmi, però, prendere per il culo questa vittoria, che potenzialmente potrebbe essere, vi svelo questa cosa, totalmente inutile. Poi, se vogliamo parlare di stasera, che mi dico che c'è da dire, un Milan che ti fa letteralmente, che ti fa letteralmente fare, si rifa da soli, dai, i primi due gol, poi, va bene, hanno fatto un bel cross sul mio corpo di testa, l'hanno presa bene, però, ragazzi, cioè, adesso, siamo obiettivi onesti, cioè, totalmente la scelta sono, non mi state a dire che il merito, si, hanno fatto un, un mini contropiede, ma non mi, ma il merito magari è stato di Bellanova e di Rodriguez, che hanno fatto due, no, forse tra me Bellanova, comunque, che hanno fatto due big cross sulla testa, quello sì, ma, cioè, Zapata e Ilic, ok, l'ha messa bene, l'ha messa giusta, Zapata forse è anche meglio, ma anche Ilic, però, cioè, il fatto che fossero da soli, non è detto dal fatto che sono stati bravi a smarcarsi, erano da soli, e va bene, poi Rodríguez per gol, eccetera, se vogliamo parlare della partita, potremmo dire che, ah, primo tempo, non ha sentito due gol, il Toro non è che ha avuto un atteggiamento di una squadra che voleva, che voleva per forza vincere tutti i costi, però sticarsi, c'era a Milan che gliel'ha, gliel'ha fatta vincere, io, sinceramente, nelle tre partite, l'avevo detto che pensavo che il Toro perdesse, quindi, non pensavo sarebbe andato così, però avevo anche detto che, io continuo a pensarlo, che il Toro non andrà in conference, comunque, penso che il Toro, anche se va in conference, comunque non mincio pure a Bergamo, e quindi io continuo a pensare a questa cosa, poi io spero di essere smentito, sono contentissimo di essere stato smentito, di, di mio pronostico, ma chi se ne è fottico, ho sbagliato, e spero di essere smentito, e voglio andare in conference, e tifo per andare in conference, e ripeto, se la prossima partita, anche la perdiamo, ma andiamo in conference, sticazzi, sono contento, sia chiaro, nell'ultima puntata del ToroCast avevo detto che preferisco un Toro che quasi fallisce, ma poi crea per solidificarsi e avere una mentalità vincente, quindi quest'anno non andare in conference, però stiamo intendo, ma poi, ma diciamo, solidificarsi per creare una mentalità vincente, e costruire un Toro che negli anni sia solido, rispetto al fatto appunto di andare in conference, ma detto questo ragazzi, cioè, è chiaro che io, cioè, sul momento, non è che se andiamo in conference, dico, no, tanto non serve a nulla, io credo che anche se andremo in conference, credo che comunque sia, non sarà un passo avanti a livello di salto di qualità, ma perché dico questo? Perché ToroCast andrebbe in maniera bene o male casuale, sull'onda di qualcosa che è successo, che è riuscito a cavalcare su un momento, ma non perché si è previsato come obiettivo, e ripeto, va benissimo, se ogni anno è così, va benissimo, fare le cose a caso e vincere sempre, ma a me va benissimo, io dico solo che secondo me, alla medio-lunga, facendo così, ti può andare bene quest'anno, magari perché, arrivando noni e voglio in una condizione europea, secondo me ecco, arrivare noni, noni, noni vuol dire ragazzi a metà classifica, cioè vuol dire giusto dalla parte sinistra, a metà, e andare in una condizione europea, forse fa capire come la conferenza, non voglio capire tanto, ma sti cazzi, i ToroScar, la cerimonia di premiazione, gli Oscar del ToroCast, saranno, dal vivo a teatro, sabato 8 giugno, ok, al teatro Sant'Anna, in via Brione 40 Torino, ci sarò io, Lorenzo Acuto, Engine Granata, tutta la lore del ToroCast, con gli ospiti, di tutte le puntate del ToroCast, puntate di sessione live, Mattopo Samai, eccetera eccetera, Peppino Udace, e poi anche a tanti altri, se volete prendere i biglietti, a breve uscirà il link, non me lo metterò qui su YouTube, su Instagram, iscrivetevi al canale Instagram del ToroCast, per avere tutta l'info, ci saranno due tipi di link, uno, il link per comprare il biglietto, ci saranno, ci sono 197 posti, quindi, chiaramente, se lo comprate subito, costa 4 euro, sono 3 ore di puntate, 3 ore di, di cerimone di premiazione, con le 8 categorie, che appunto dovrete votare voi, quindi l'altro link, è il link per, votare le 8 categorie, miglior puntate, miglior ospite, miglior dissing, eccetera eccetera, che verrà spammato ovunque, qua e su Instagram, basta, ciao, basta.